Unire le nostre forze per diventare una forza è possibile. Abbiamo troppi cittadini a intermittenza, abbiamo bisogno di cittadini più responsabili. Oggi la malattia più terribile è la delega e pensare che tocca sempre a qualcun altro fare. Ma la malattia ancora più terribile sono i neutrali. I libri di liberal infastiditi che dicono sì ma sarebbe meglio farlo così, più sono convinto che bisogna pestare ancora di più sull'acceleratore perché è evidente che sia una scusa per non fare mai niente. Invece bisogna dar fastidio alle persone, la rivoluzione non si fa in silenzio. La nuova generazione dell'Arci, di cui l'Arci di Torino è una punta davvero avanzata, accoglie una nuova generazione di movimento. e questo mi commuove perché mi sembra veramente un passaggio di testimone. Grazie! Grazie!